uno dall'altro, ok adesso incontrate i tuoi contrari di cui hai fatto il mondo avrete costruito il suono, avete costruito il reale soprattutto avete costruito il suo strato ritmico che serve a questo woman band per andare avanti pronti? ok, molto bene, le risentiate adesso ho bisogno di voi per un'altra cosa ho bisogno delle vostre ugole ok? ho bisogno che voi pronunciate tre sillabe sonore cosa sono tre sillabe sonore al giorno dell'oggi? mi assicuro che è un'operazione assolutamente gratuita ma che a livello carmico farà tanto per questo mondo le tre sillabe sonore attenzione che ero una che ero una che ero una lo dico meglio get on up perfetto ora provo che dovete metterci un po' di più la riserva migliore per il groove e prendere coscienza delle ossa e dei muscoli che stanno su questa marca del corpo ecco mi insieme a fare ecco mi insieme a fare ecco mi insieme a fare i piedi le piene le piene le piene le piene le piene le piene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti